Brave and Beautiful. Trama puntate. Martedì 7 settembre 2021. Tutti a casa Kododag accusano delle nausee molto forti. Koran è preoccupato che si tratti di un virus intestinale e che possa essere in qualche modo trasmesso a Jaide. Per questo motivo è molto gentile e premuroso con la moglie, la quale però è sfuggente e cerca di non farsi toccare il pancione. Dopo qualche ora anche Jaide si rende conto di iniziare ad avere gli spiacevoli sintomi che hanno colpito anche i suoi familiari, così fugge nei boschi nel tentativo di non essere sottoposta a controlli medici. Intanto Serat vuole vederci chiaro sull'evasione di Risa e inizia a indagare coinvolgendo anche i Kododag. Tassin fa il possibile per cercare di far ricadere la colpa su Gesur dicendo che è l'unico ad avere una motivazione per far fuggire un criminale ma finisce per essere arrestato con grande sorpresa di tutti. Approfittando dell'occasione Gesur lo accusa di aver assassinato suo padre e chiede a Serat di resumare il corpo di Hassan al fine di capire come sia avvenuta la sua morte. Tassin cerca però di evitarlo, sottolineando anche davanti al procuratore che il padre di Gesur si tolse la vita e nessuno fece qualcosa per assassinarlo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!